Buonasera a tutti, io ringrazio sempre loro per l'invito, ma io ringrazio sempre anche il pubblico che è ancora qui anche a quest'ora, di domenica, presente, attento, perché noi siamo qui anche per voi, per portare contenuti, portare novità. Allora io ho sentito tante belle relazioni oggi, le ho seguite con piacere e ho visto che c'è tanta ricerca, c'è tanti concetti dietro che poi vanno portati nella pratica. Ecco io oggi in questa illustrazione portiamo la medicina funzionale che è la pratica clinica di tutto quello che stiamo vedendo e noi ci dobbiamo tenere i fatti aggiornati perché tutto quello che stanno facendo i nostri colleghi con la ricerca deve arrivare sul campo, quindi sulla clinica ed ecco che qui è la medicina funzionale che lo fa e noi siamo qui a fare medicina funzionale, epigenetica eccetera, ma la medicina funzionale ci ricordiamo cos'è? È un approccio medico che si integra alla medicina convenzionale, non si sostituisce, si integra, la supporta con l'obiettivo chiaro di identificare e trattare le cause sottostanti i sintomi e le malattie croniche, la ricerca, tutto quello che abbiamo visto qui sta cercando le cause di ciò che sono i problemi, la fertilità e altri problemi, li stiamo cercando andando a vedere da dove arriva il tutto, abbiamo visto quanto influenza l'ambiente e infatti la medicina funzionale tiene conto delle interazioni complesse tra ambiente, stile di vita, genetica e epigenetica, ok? Quindi ecco la medicina funzionale che è il braccio pratico di tutto quello che stiamo vedendo e io mi occupo prettamente da forse vent'anni di medicina funzionale sulla pratica. La medicina funzionale si stringe, come faccio vedere ogni tanto questa dry, mano nella mano con l'approccio convenzionale, semplicemente la medicina convenzionale è stata, come dire, siamo formati a curare la punta dell'iceberg ma non ci siamo formati a curare la parte sotto l'iceberg che praticamente è l'approccio funzionale, quello che va a cercare, che cosa c'è sotto? Io ho voluto coniare un nuovo termine che è un metodo che ho creato negli anni che si chiama medicina funzionale strategica, che è un supporto ulteriore alla medicina tradizionale funzionale dove si integrano l'esperienza clinica perché ci vuole anche quello, noi non impariamo sui libri, i nostri libri chi sono i pazienti per noi professionisti della salute e quindi l'esperienza clinica è fondamentale come la diagnostica avanzata che è quella che ci stanno fornendo i ricercatori. Ed ecco quindi che la medicina funzionale non si può limitare solo le cause, deve crearsi strategie diagnostiche di trattamento personalizzate che sono essenziali e nascono dall'esperienza, dalla formazione, dall'incrocio tra la medicina anti-aging, che è la medicina vera, preventiva, la psiconeuroendocrinologia che vede il tutt'uno dell'uomo, il ruolo dell'epigenetica e dell'intestino del suo microbiota perché oggi sappiamo che non possiamo prescindere dal microbiota che risente di tutto il nostro stile di vita, l'ambiente e quello che mangiamo. E quindi questo approccio si concretizza con un team di lavoro, non possiamo fare tutto da soli, abbiamo bisogno di un team, come esistono gli ospedali, come esistono le strutture cliniche, abbiamo bisogno di un team che ci aiuti e io faccio così, coordinati sul paziente per creare strategie che possano portare al trattamento e a indicare verso stili di vita corretti la nutrizione, la nutraceutica, l'integrazione e gli epinutrienti di cui accenerò tra poco cosa consistono. Quindi l'inquadramento in team è fondamentale per una visione completa della pazienza, sistematica, per poter conoscere meglio i suoi processi biochimici, la sua nutrizione e soprattutto andare a valutare con attenzione qual è la funzione cellulare e dunque mitocondriale. E sappiamo bene che, come abbiamo parlato tanto, io potrei essere ripetitivo perché oggi essendo tra gli ultimi relatori abbiamo sentito già dei concetti, abbiamo parlato di ossigeno e l'ossigeno ha una funzione fondamentale per l'efficienza della cellula, come abbiamo capito. Nel metabolismo energetico l'ossigeno è fondamentale per fare il catabolismo, cioè creare energia per fare l'anabolismo e la sintesi proteica di tutto ciò che abbiamo bisogno nel corpo e abbiamo bisogno, e l'ossigeno, ormai sappiamo che la sua capacità è data soprattutto dal trasferire elettroni e l'ossigeno contribuisce alla formazione di specie ossidative. Che cosa fanno queste? Sono un vantaggio le specie ossidative perché sono fondamentali per i processi omeostatici ed è quello che viene chiamato eostresso ossidativo, quello che si fa anche con chi si occupa di terapie con l'ozono, dove abbiamo ossigenazione e stress ossidativo nel stesso tempo per portare ossigeno ma anche per portare eostress. Esistono diversi modi per apportare ossigeno all'organismo, l'attività fisica regolare e soprattutto in ambienti naturali, come diceva Balducci poco fa, viviamo all'aperto, corriamo all'aperto, facciamo l'attività all'esterno e respiriamo l'aria che ci è data, perché è l'aria che ci è data nell'ambiente inquinato che viviamo, se possiamo andare in posti meno inquinati è meglio, le tecniche di respirazione fondamentali, abbiamo parlato anche stamattina, si parlava dell'effetto fondamentale della respirazione sull'organismo intero e la gestione dello stress, la guide di cui parlavo poco fa, fondamentale, la grande autoemoterapia con l'ozono, le camere bariche che stanno entrando nelle tecnologie del bio-hacking e il sulfato deuterio che abbiamo visto e ripetiamo mille volte dei vantaggi che fa il self-food, in grado di reagire con l'acqua presente nell'organismo e rendere disponibile l'ossigeno per il metabolismo cellulare. Questo permette ancora una volta di fornire ossigeno, di avere una fonte di ossigeno stabilizzata, aiuta a migliorare l'ossigeno cellulare sostenendo la respirazione mitochondriale, favorisce una produzione di energia più efficiente e può essere utile in condizioni di stress ossidativo, quindi oltre a ossidare, a essere una risorsa di ossigeno, a essere una protezione, può svolgere un ruolo chiave nel migliorare l'efficienza di ossigenazione del mitocondrio, quindi se il food ormai lo conosciamo bene, è inutile ripetere, ma abbiamo capito bene che nell'azione di supporto mitocondriale dell'organismo è fondamentale questa opzione. Qui mi soffermerò un attimino, perché questa è una slide molto importante, base della medicina funzionale, che io poi l'ho chiamata strategica, proprio perché abbiamo delle strategie da attuare per fare prevenzione, perché la prima cosa che la medicina funzionale è prevenzione. Poi purtroppo noi vediamo troppi pazienti che vengono da noi malati, o comunque con delle disfunzioni, e questi sono collegati negli squilibri o già nei fattori di rischio. La medicina ci ha insegnato a trattare sui fattori di rischio, perché noi vediamo il paziente e lo trattiamo quando già la pressione è alta, quando già ha un'intolleranza glicemica, quanto ha il colesterolo già elevato, quando i triglicidi sono elevati e quando è in sovrappeso o altre problematiche. Lo prendiamo lì e lì interveniamo, ma dov'è la prevenzione primaria? Ok? Prevenzione primaria lì è scaduta già. Allora dobbiamo già individuare gli squilibri che ne derivano, quindi lo stress sudiativo, l'infiammazione, l'iperomocestinemia, l'insulino resistenza, la disbiosi intestinale, lì però abbiamo già qualcosa che può essersi squilibrato, però già anticipiamo le patologie, perché entriamo nella fase di squilibrio. Vedete sotto che ho messo un fiammifero? Il fiammifero che accende, scatena il fuoco e poi la malattia. Questo è quello che facciamo oggi. Oggi siamo nei fattori di rischio. La medicina funzionale quando arriva il paziente inizia a individuare gli squilibri e se possiamo prendere ancora prima l'individuo sano, oppure io dico al paziente a volte che viene, che ha qualche squilibrio di salute o malattia, dice prima ti metto in ordine i tuoi squilibri e poi iniziamo di nuovo per prevenzione, perché se non ti posso lasciare col mal di pancia o il mal di testa, prima ti metto a posto il sintomo e poi ti approccio verso una prevenzione seria. La prevenzione dove inizia? Con i fattori modificabili, che sono la fase preventiva, che sono la nutrizione, noi lo sappiamo, lo stress fisico, lo stress psicofisico, le relazioni con gli altri. Noi vediamo sempre persone che litigano con il marito, con la figlia, con il datore di lavoro, la vita di tanti pazienti e il loro lavoro, che vivono magari con stress, la sedentarietà. E lì Balducci ci ha fatto una relazione che ci ha fatto capire quanto malattia è la sedentarietà, per noi infiammazione, perché la nostra genetica quando ci vede sedentari pensa che non abbiamo più possibilità di procacciarti il cibo e cosa fa? Ci ingrassa, ci infiamma perché ha paura che non mangeremo più e ci deve tutelare. Ok, alza la ferritina, alza i trigliceridi, alza l'insulino resistenza perché ci sta proteggendo da una sedentarietà. Quindi il corpo, la sedentarietà, non lo vede solo come riposo, se è troppo lungo lo vede come malattia. E così anche il sonno di cui ci parlerà Garitano, il sonno è fondamentale per il recupero dell'organismo. La fase eccessiva, eccellente di parasimpaticotonia lo fa il sonno per poterci recuperare le funzioni. E allora le strategie preventive quali sono? Sicuramente correggere questi stili di vita e poi oggi abbiamo questo sostegno che è il test S-Drive che ha delle strategie funzionali epigenetiche di prevenzione e addirittura di indicazione di trattamento. E quindi è la chiave tra i fattori modificabili e quelli che sono i fattori di squilibrio. Quindi stiamo ad anticipare addirittura quello che poteva succedere successivamente. E quindi entra prettamente in un'azione preventiva, non solo curativa. Guardiamolo anche sotto questo aspetto. E se andiamo avanti andiamo a vedere anche un'altra cosa importante che c'è anche nell'S-Drive. L'epigenetica non può prescindere dagli epinutrienti. Che cosa sono? Sono i nutrienti ed ecco la dieta quanto è importante e l'integrazione corretta che influenzano l'espressione genica attraverso meccanismi epigenetici. Essi agiscono sulla metilazione e sulla modificazione degli stoni quindi attivano e disattivano i geni di epinutrienti. Quindi cosa abbiamo in mano di così preziosi? Parla di dieta mediterranea. Nella dieta mediterranea vedremo adesso abbiamo tutti gli epinutrienti dentro. E quindi abbiamo una dieta che regola a livello epigenetico insieme ai nostri tipi di vita. Ed ecco qui quali sono gli epinutrienti. Folati adesso ne ho elencati alcuni. Folati la B12 ognuno ha una funzione epigenetica. Il SAM è fondamentale ne abbiamo già parlato prima per fare metilazione. Lo zinco la vitamina D non dimentichiamo c'è una modulazione importante dell'istono di acetilasi che è un se questo enzima funziona il DNA viene chiuso non si può accedere quindi se c'è un tumore il tumore spegnerà geni con questo enzima se noi lo disattiviamo apriamo le porte a poter accedere a geni che possono andare contro il tumore. I polifenoli tra cui il retratolo e ancora la curcuma gli acidi grassi omega 3 ormai sono spalmati dappertutto per il loro effetto infianti fiammatorio e via così il sulforafano grande anticancerogeno e lui cosa fa? Blocca quegli enzimi di cui vi ho parlato soprattutto in corso di un tumore il sulforafano ha un sostegno importante per slattentizzare quei geni che potrebbero essere protettivi. La tè verde ormai parliamone tanto e lui ha una modulazione importante anche lui sullo spegnimento e l'accendimento dei geni. Vitamina C ne ho parlato prima alloesiantoni con tutte le sue influenze ma ha anche un'influenza sulla metilazione e protegge logico dai danni ossidativi. Betaina colina e qui guardate qua nel test epigenetico cosa ci sono? Ci sono proprio le epinutrienti che sono elencati. Quando noi vediamo qui possiamo andare a vedere le carenze che troviamo di epinutrienti in quel paziente. Quindi stiamo facendo epigenetica anche in questo aspetto nutrizionale oltre a vedere quali sono gli alimenti che stanno disturbando. Quindi andiamo a prendere degli epinutrienti quello che vi ho detto adesso quindi qui sappiamo che cosa possiamo fare su quel paziente per aiutare a accendere e spegnere in maniera corretta il suo DNA. Quindi grandi vantaggi di avere un test che ci aiuta anche in quello. Poi esistono altri test che noi possiamo usare per la clinica ma qui in un app batter d'occhio possiamo avere delle informazioni. E gli epinutrienti possono essere integrati quando mancano noi li integriamo oppure se sei un bravo nutrizionista abbiamo dei cibi che sono ricordo la dieta mediterranea vera che non è quella che facciamo oggi ok di pasta asciutta eccetera ma è una dieta veramente più antica più naturale dove abbiamo già parlato oggi di cosa sono gli alimenti che più sono presenti sulla tavola della dieta mediterranea. Cinghiali Cervi Coccodrini e quindi i nutrienti hanno effetti epigenetici si parlava tanto della nutrizione oggi con la scienza stiamo capendo sempre di più perché mangiare bene ci allunga o ci migliora la vita perché guardiamo a migliorare la vita che è la cosa fondamentale e quindi non si può non finire parlando di un'altra cosa fondamentale e qui ve la colloco prima il collega ha parlato di microbiota e microbiota anche lui ha un effetto epigenetico grazie alle acidi grassi e catena corta ma gli acidi e catena corta chi li produce? Da dove arrivano? Dall'alimentazione ok intensamente su base vegetariana però non solo quello bisogna mangiare perché l'intestino è un equilibrio dinamico di specie batteriche che io posso vedere sul test di microbiota che io faccio spesso e volentieri per capire quel paziente come sta mangiando e come sta squilibrando anche con l'alimentazione il suo intestino perché non è tutto lì ci sono anche altre tante altre variabili da considerare quindi il buttierato il principale acido catena corta grasso catena corta influenza l'espressione genetica attraverso diversi meccanismi epigenetici e guarda lì anche qui nibendo quell'enzima lì che tendeva a far chiudere il DNA all'espressione la regolazione della metilazione e attraverso segnali recettoriali che regano l'espressione di geni chiavi per il metabolismo energetico immunitario ok quindi il microbiota anche lui ha un effetto epigenetico ma sempre in base a quello che ci portiamo dentro cosa ci mangiamo anche l'integrazione si è visto che può influire sulla produzione di acido butirico ad esempio attraverso la curcuma e la bosveglia che sono delle sostanze che nutrono alcuni batteri che fanno acido butirico questi meccanismi permettono agli acidi a catena corta di regolare anche l'infiammazione migliorare l'integrità di barriere di cui si è parlato prima intestinale e modulare il metabolismo cellulare sintesi di confattori cosa fa anche il microbiota oltre a questi acidi sintetizza confattori di mitirezione perché avete visto gli epinutrienti da dove arrivano dalla nutrizione ma anche dalla fermentazione batterica che produce delle vitamine fondamentali per la metirazione e per concludere vi faccio un esempio di quello che l'approccio clinico che io attuo io come medico funzionale innanzitutto ricordatevi che quello che vi sto dicendo qui lo faremo anche alla scuola di alta formazione dove lì porterò una lezione dove amplierò questi temi soprattutto concentrandomi sull'anamnesi del paziente perché quella è fondamentale l'anamnesi vedrà tutto quello che è la raccolta anamnesica la diagnostica avanzata tra cui anche il test epigenetico e sarà molto importante per approfondire queste tematiche di cui vi ho accennato oggi questa è clinica pura quindi il medico funzionale dovrà fare un'anamnesi clinica che sarà importantissima per vedere gli antecedenti i mediatori i trigger che hanno scatenato le patologie l'anamnesi attuale come stai oggi perché sei qui io quando dico al paziente la prima cosa che gli dico qual è il motivo per cui sei qui come posso aiutarti questa è la cosa più bella come posso aiutarti perché sei qui da me e poi l'esame obiettivo che va fatto oggi facciamo tanto le visite online io ad oggi non sto facendo visite online le prime visite mi sto rifiutando se mi fai la seconda online te la faccio ma ti devo toccare vedere al momento cerco di lavorare ancora finché si può a contatto con il paziente e questo ti porta dopo che hai fatto tutta questa raccolta di dati e di esami obiettivo alle strategie diagnostiche e quindi lì vai a fare gli esami avanzati che sono esami del sangue un po' più analitici come parlava Balducci del Timao ok le LDL ossidate ce le siamo dimenticati che sono quelle più per cui i macrofagi sono più avidi queste benedette le LDL ossidate quindi andiamo a fare esami avanzati esami dell'ossidazione e poi esami personalizzati che ci permettono anche col test epigenetico di avere una visione di insieme e poi condivido i dati col mio team che sono nutrizionisti osteopati altri specialisti coach anche che ci permettono di aiutare il paziente verso strategie di cura che ho portato io e il mio team quindi con integratori epinutrienti integratori fitoterapici la gestione dello stress e degli stili di vita il sostegno motivazionale che logico se ne occupa il coach diete e consigli nutrizionali che abbiamo capito vanno personalizzati in base a tutto quello che sono gli esami il microbiota il stile di vita e via così questo è un modello che io ho voluto portare come metodo che sto praticando da molto tempo con dei risultati diciamo eccellenti e sono molto felice perché la soddisfazione più grossa del medico non è l'onorario ma è la soddisfazione di vedere un paziente che sta bene e ti dice grazie perché io oggi sono rinato grazie a voi che siete qua con me grazie a voi grazie a voi